Good morning! How's it going today? Come state? Come sta andando? Oggi siamo qui per parlare di un altro idiom. Forse l'avete sentito, forse no. L'idium è just the job. What does it mean just the job? Cosa significa just the job? It means what is needed. Significa quello di cui c'è bisogno. Per chi non mi conoscesse, sono Lisa, titolare della school online 7 o'clock English school e insegnante di inglese e spagnolo con il metodo Callan, ma non solo. Allora, torniamo sull'idium di oggi e facciamo alcuni esempi. That trip to the countryside last weekend was just the job. La gita alla campagna countryside l'altra settimana, l'altro weekend, è proprio quello che c'è voluto. I feel so relaxed now. Mi sento così rilassata adesso. Oppure a hot chocolate at the end of the day is just the job. Una cioccolata calda alla fine della giornata è esattamente quello di cui ho bisogno. penso che questa espressione non l'abbiate sentita tanto spesso. Comunque, per ricordarla, fate qualche commento qui sotto per memorizzarla così posso anche aiutarvi eventualmente. Se il video è stato utile mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così riceverete tutte le notifiche dei prossimi video. Vi auguro una bellissima giornata e, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. See you in the next video. Bye!